È una canzone tradizionale popolare della mia terra, Sicilia. L'Italia è un paese pieno di canzoni tradizionali. Questa è una storia... Dolorosa? Un po' dolorosa? Quella? Ma molto dignitosa, piena di dignità del popolo siciliano. Adesso gliela spiego prima di raccontarla. È una storia molto dolorosa, ma anche piena di dignità della popolazione siciliana. Dice questo. C'è un uomo che cammina e trova una crozza, un teschio. Sono ossa dei minatori che venivano abbandonati fuori dalle miniere tanto tempo fa. Quest'uomo interroga quest'anima e gli chiede come mai sei addolorata. E questo uomo fa una domanda a questo uomo, a questi uomini. Perché sei addolorata? Perché sei dolorosa? L'Italia gli risponde Sono addolorata perché sono morta senza una degna sepoltura, senza riconoscimento di una sepoltura. E questo uomo è in cui sono sad perché non avevo un uomo e un funerale. Allora quest'uomo invece di avere paura pensa che sono passati i suoi anni e invecchiato. E dice i miei anni se ne sono andati ora che sono vecchio di 80 anni vorrei vivere ma sono più vicino alla morte. E questo uomo, dopo molti anni, dice che sono vecchio e ora sono più vicino alla morte. E pensa che vuole pagare qui le sue colpe perché vuole lasciare un buon ricordo, quindi si prepara. E dice a quelli che gli stanno intorno, è un'immagine cruda, dice Preparatemi il capezzale, il letto di morte, perché sto già ammarcendo. E finisce, questo canto finisce dopo tanto dolore, con un'immagine paradisiaca. Per un siciliano il paradiso assomiglia alla Sicilia. E dice, c'è un giardino in mezzo al mare. Tutto pieno di arance e fiori. E gli uccelli lo scelgono per andare a cantare. E le sirene lo scelgono per farci l'amore. 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 E le sirene della nuova. E mettere la sensazione. E' ilIo e il l'amore di l'amore. E' la messa.